buon pomeriggio a tutti oggi ci ritroviamo di nuovo a parlare di bravo slot dopo veramente di tantissimo tantissimo tempo voglio ritornare perché questa macchinetta questa applicazione slot mi ha fatto davvero da una parte ci ha fatto davvero soffrire ma ci ha anche regalato delle vere gioie ok quindi ora ritorniamo di nuovo a parlare di questo di questa app e ora iniziamo dall'inizio allora giochiamo come prima macchinetta questa qua la gold machine jackpot che sarebbe la nuova ok andiamo un attimo a provare speriamo che ci dia qualcosa nel senso di eh di soldini e così ci fa aumentare anche un po' di di soldi no? ok allora qua ma qua non riesco a capire ma perché è così alto il bui secondo vediamo un attimo ragazzi qua hanno cambiato tutto eh questa è la prima volta che c'è da parecchio che non che non la provo eh perché è così alto il bui riesco a capirci secondo ragazzi devo capire eh qua ci sta andando troppa pubblicità eh regular ah ecco regular 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 parte perché poi act the limit eh sì vediamo 500.000 ah ecco vedi fino a 250.000 ecco vedete già è un bet praticamente consono ok andiamo a vedere un po' i pay tablet ok eeeh ah vabbè eeeh vabbè mettendo i 5 allora se esce 5 a 100 ci paga 5 molto probabilmente se esce 10 più 0 0 ci paga 1000 ah beh diciamo che è semplice come poi ci taiwall bonus vabbè ragazzi questo è meglio comunque che la che la andiamo a che la andiamo a scoprire noi qui va bene 250.000 allora vediamo un po' ragazzi eh siamo eh un capitale di 332 milioni va bene vediamo un po' vediamo un po' cosa ci ci riserva il futuro eh vedete proprio abbiamo fatto lo spin qua eh cosa è successo non ho capito cosa ci ha dato ah ci ha dato un gioco bonus vediamo se paga praticamente qualcosa con 250 2 milioni e mezzo eh ci ha dato 10x praticamente ma eeeh però ragazzi potevo darci minor che su 10 milioni mai i 14 37 milioni e mezzo tutto bene praticamente va bene va bene però perché questo ci riempie di di pubblicità vedete qua che cosa ci succede mamma mia qua potevamo fare cose grosse invece no qua ci ha dato qualcosa good luck vediamo un po' per adesso per adesso non ci sta dando molto per questa slot però vediamo ragazzi 332 pagato 12.500 praticamente qua pure questo qua che cos'è qua 173 mila milioni bene va bene abbiamo completato dopo lo vediamo dai 12 milioni e mezzo vedete bene bene però ragazzi io voglio un po' vedere un po' come va questo slot se ci riempie di pubblicità non andiamo proprio bene qua c'è pagato 10 sarebbe 125 qua c'è pagato 5 vediamo vediamo un po' pagato 687.000 687.000 però comunque ci sta facendo aumentare un pochino vediamo un po' però il grande jackpot non non è disponibile con questo bet vediamo un po' fermi una cosa eh 50 eh grazie 50 milioni eh sì vabbè eh vabbè eh scusa eh vabbè manca 500 neanche un milione neanche 2 milioni e mezzo neanche 5 milioni neanche 7 milioni e mezzo neanche 10 milioni eh sì vabbè 15 milioni per per sbloccare il grande jackpot sì vabbè ragazzi ma chi come fa con questo ci abbiamo troppo poco capitale per fare una cosa del genere ma va bene vediamo se ci esce ci ha dato già 100 eh ci ha dato 200 ci ha dato un milione e 250 però questo subito ci mette il massimo mettiamo mettiamo bet console un milione va bene dai ragazzi un milione va bene dai facciamo vedete un milione ci paga 250 con 5 50 mila per ogni per ogni numero vediamo vediamo un po' e dammelo 100 eh ci ha pagato 5 milioni sì ma non ha pagato tanto ci serve mille per pagarci tanto 100 vabbè 5 milioni ha pagato 5 milioni ragazzi 5 milioni però vediamo ragazzi come come slot diciamo non è affatto male vediamo se ci da qualche altro free spin vediamo un po' 5 ci da 250 però la maggior parte ragazzi non paga cioè tra virgolette vediamo un po' vediamo un po' 50 mila vediamo se ci esce uno 10 ha pagato ha pagato 10 500 eh mille sono 50 milioni eh mille sono 50 milioni mille ma quando ci dà il caso di 50 milioni? ma quando ci dà domani? comunque provamolo un altro poco ragazzi stiamo spinnando ma che dire 500 mi ha dato 10 però dopo non mi ha dato altro 5 che cos'è questo? abbiamo preso il feed dell'animale molto probabilmente sì ma non è la questione del feed la questione è che comunque a fine non ci sta pagando proprio nulla un zero totale praticamente avete capito? c'è proprio zero zero totale non paga proprio non paga proprio vediamo un po' questo è buono finalmente un 500 mamma mia ecco questo mi piace eh ah bonus well che cos'è qua? cos'è bonus well ragazzi? 25 milioni abbiamo preso ma sì no questo è per ah ho capito questo è vabbè questo è a pagamento praticamente ho capito ho capito effettivamente va bene ma pensavo che era una cosa comunque 50 milioni ce l'ha dati no? eh dai 12 milioni e mezzo qua ci ha fatto salire un po' eh meno male un po' di qua un po' di là ci ha fatto salire un pochetto proviamo un altro poco può essere che paga ancora di più ma mettiamo un betto pure più piccolo tanto per divertimento ragazzi facciamolo così vediamo se ci riesce vediamo se paga ancora mettiamo stop loss a 350 milioni dai ci giochiamo dati 4 milioni e poi basta dai l'abbandoniamo facciamo così facciamo in velocità a 350 eh l'amando l'amando via quindi più o meno ai 10 10-20 free spin vediamo un po' a meno che vincita qualche bella bella vincita ma non credo proprio 20 vedete non paga nulla vedete 100 meno e 250 ma sì ma non paga tanto cioè infine comunque ci ha dato quella quella soddisfazione vediamo no proviamo un altro po' vediamo un po' 10 10 10 10 eh vedete già sono andato oltre i 350 milioni vabbè non fa niente andiamoci a prendere i regali qua che cosa c'è non ci ha dato nulla qua non ci ha dato nulla qua va bene bravo album vediamo un po' questo qua vediamo un po' questo qua vediamo il pacchetto vediamo questo pacchetto cosa ci esce quindi collections 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 un po' c'è da tutti questi pacchetti ma vedete come si velocizza subito start packs vediamo un po' va bene non riesco a capire perché c'è questa pallina rosa ah un milione e 920 abbiamo preso e stop perfetto abbiamo preso giusto giusto i soldi nostri 320 però qua ci sta ancora qualche altra cosa eh ci sta non ci sta più niente perché qua a fine dobbiamo prendere niente più qua non ci dobbiamo confondere va bene chiudiamo vediamo un po' ragazzi questo qua cammina sempre vediamo un po' vediamo se ci sta qualche altra cosa qua ci abbiamo un'e-mail vediamo un po' e-mail non c'è nulla qua qua ci sta vabbè qua il coupon per risparmiare il club vediamo il club il club cosa ci da abbiamo il feed more ecco questo qua il feed vediamoci vediamoci il feed vedete eh prende 499 questo qua ravine non capisco ragazzi questi sono tutti cagnolini praticamente che dobbiamo dobbiamo fare il feed ok va bene perfetto ragazzi spero che comunque vi sia vi sia stato piaciuto questo questo video vi vi lascio alla prossima ciao ciao ciao